Sigismondi, sono passate tre settimane dall'appuntamento elettorale delle regionali. Quando bisognerà ancora attendere per la fumata bianca sulla giunta regionale, sulla giunta Marsili? La verità è un'altra, che soltanto lunedì c'è stato il passaggio delle consegne e solo sabato scorso, quindi sette giorni fa, c'è stata la proclamazione degli eletti. Quindi i tempi non sono assolutamente quelli che dice lei, ma sono molto più stretti. In questi giorni abbiamo lavorato con tutte le forze politiche del centrodestra, l'abbiamo fatto con una serie di consultazioni, come sapete abbiamo fatto anche una riunione di tutti i coordinatori regionali e a breve abbiamo la riunione conclusiva per la fumata bianca, come l'ha chiamata lei, per dare l'avvio definitivo alla giunta regionale. Resta però questa distanza al momento tra Forza Italia e la Lega in particolare? Non c'è nessun tipo di distanza, anche qui avete una visione non realistica della situazione perché ci sono più ipotesi di lavoro che sono oggetto di riflessione delle segreterie politiche e sono assolutamente ottimista sia per i tempi che sono molto molto brevi, sia sulla qualità della giunta e sia sul rispetto di tutte quelle che sono le componenti che sono espressione della maggioranza. A proposito di tempi, volendo fare proprio un riferimento temporale, quando secondo lei ci sarà la nomina dei nuovi assessori? Come sai a me non piace dare i numeri, neanche in questa occasione lo farò, quindi tra molto molto breve tempo ci sarà il varo della giunta.